E poi voi vi occupate, mi sembra, anche di integrazione con iPhone, navigatori e altri prodotti tecnologici come anche videocamere all'interno delle maschere, quelle che penso siano per le moto, per le motocross? Sì, una nello specifico è integrata all'interno della mascherina, quindi si può utilizzare per le soggettive di ripresa, poi abbiamo anche altri tipi di videocamere che si possono montare sul manubrio, a baraccio, piuttosto che... Inquadriamo qualche gadget, come possiamo definirli, prodotti che voi applicate. La vostra azienda dove si trova di base? Noi siamo di Reggio Emilia. Reggio Emilia, l'ho riconosciuto dall'accento, la patria dei motori, l'accento è inconfondibile, ma anche dalla simpatia vi ho riconosciuto. Credevo dal naturale colore dei capelli. Sì, tutti uguali. Dunque, ecco, abbiamo visto qui appunto inquadrato anche dei prodotti. Sì, perché poi voglio dire, in questi, almeno adesso, il fatto di autoriprendersi funziona molto, no? Nell'era social, diciamo, bisogna documentare le proprie esperienze. Certo, con l'esplosione di YouTube, della Self TV, diciamo. Sì, infatti, ognuno vuole raccontare, vuole immortalare, vuole fissare anche i momenti di divertimento, quindi utilizza questo tipo di accessori.